Ricevuto a Palazzo Ferro Fini a Venezia con tutti gli onori degni di un principe, l'asparago bianco di Bassano, DOP, simbolo e orgoglio del nostro territorio. È un prodotto unico, nasce in un territorio anche unico, molto particolare e anche la sua caratteristica, chiaramente anche di bontà e di fragranza, è data proprio dal territorio proprio dove cresce. Quindi da un terreno portato all'epoca, comunque migliaia e migliaia di anni fa, dal fiume Brenta che ha rilasciato questo terreno venuto giù dalle nostre prealpi e l'ha adagiato proprio attorno a Bassano dove ancora tutt'oggi coltiviamo questo magnifico Turione. Magnifico Turione che in questi giorni è il protagonista anche delle tavole più prestigiose conquistando ancora oggi la Serenissima e diventando l'ospite d'onore degli eventi veneziani più in, a cominciare dalla Biennale. Ma c'è di più perché da una ricerca universitaria è emerso che proprio l'asparago bianco di Bassano è uno dei pochissimi alimenti che si possono inserire in qualsiasi dieta. Insomma, bello, buono e salutare.